Cinque azioni e quindici regioni coinvolte sono alcuni dei numeri del progetto del Comune di Bari Sport per Tutti, focus particolare dedicato alla mobilità sostenibile. Cinque azioni come le dita di una mano in linea con l'agenda 2030 e quindici regioni coinvolte sono alcuni dei numeri del progetto Sport per Tutti, rete di collaborazioni per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e valorizzare il ruolo dello sport nel rilancio socio-economico post-pandemia. 26 comitati territoriali WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti in prima linea e poi stakeholders, altri soggetti del terzo settore, università e reti associative. Il focus su Bari in particolar modo è sulla mobilità sostenibile. Questo progetto valorizza lo spostamento in bici per raggiungere un palazzetto dello sport. Ci sarà un mobility manager che studierà questi flussi e accompagnerà gli utilizzatori e i fruitori del palazzetto per proporgli sempre più una mobilità sostenibile per raggiungere e per tornare dal palazzetto. Oggi è importante parlare di questi temi perché ormai l'ambiente ci condiziona in qualsiasi azione che noi facciamo e quindi utilizzare lo sport che è un'attività che raggiunge un pubblico anche più variegato e più vasto è importantissimo. Partire da Bari che è la città che sta cercando di fare il più possibile per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la micromobilità, le piste ciclabili, al collegare appunto come si pone il progetto da casa alle attività sportive è importante.